Riaperte le liste, le molisane della Serie D non sono rimasti alla finestra a guardare. Interventi decisi e mirati da parte di Termoli e Agnone per rafforzarsi in vista delle partite che mancano al giro di Boa e soprattutto in vista del girone di ritorno in cui inizierà un altro campionato. Il Termoli con il dichiarato intento di guadagnare i pro a puntellato difesa e centrocampo. Giacomarro può contare ora sul campo bassano Danilo Fusaro, reduce dallo smantellamento dell'Isernia Calcio e su Stefano Mandorino, classe 87 proveniente dalla Civitanovese. Mandorino ha esperienza anche in Lega Pro con le maglie di Scafatese, Manfredoni e Celano. Ai Adriatici tocca un finale di anno solare con avversari non irresistibili, stando alla carta della classifica. Termoli a Mitternina, domenica al Cannarsa, trasferta a Città Sant'Angelo, si chiude in casa contro il San Nicolò prima di Natale. Le possibilità di fare bottino pieno per Miani e Soci ci sono tutte. Ad Agnone si è preferito e ha ragione puntellare la difesa. Ecco in Alto Molise il portiere Biasella, classe 93, ex San Nicolò e l'esperto difensore centrale di Berardino con una carriera di tutto rispetto tra Vibonese e Juve Stabia. Quest'ultimo può contare circa 200 presenze tra i professionisti. Domenica iessi però sarà squalificato. La società Granata ha pensato bene di rinforzare anche il gruppo Beretti grazie anche alla collaborazione solida in essere con il Bari. Si è aggregato il classe 97 Partipilo, cugino del centrocampista di Urbano. Se per il Termoli si parla di calendario favorevole non si può affermare altrettanto. Per l'Olimpia agnonese è costretto a giocare fuori casa tre delle prossime quattro partite. Dopo la trasferta prossima iessi arriva al Civitelle la scomoda Ancona. Prima della pausa natalizia complesso l'impegno a Macerata. Il 2013 De Granata comincerà con un'altra esterna altrettanto difficile a Civita Nova Marche. L'obiettivo dell'Agnone è di girare a quota 22 prima della fine del girone di andata. Con 18 punti all'attivo l'obiettivo è più che possibile.